Allora vedi qui c'è anche la side quest che dobbiamo fare, io a sto punto ne approfitterei e la faccio, tanto ormai oggi facciamo tutto in live, me ne fotto, oggi si rusha fino alla fine Ah questa è la caccia, esatto questa era la caccia che dovevo fare, quindi nel frattempo ci facciamo anche la caccia Uh guarda che bello sto attacco Io ho P sto attacco Bahamut Oscurità cala Oscurità cala Quanto sei esagerato Ah si è caricato come il jaguaro che si caricavano così Ahia madonna Però non basta, mi dispiace Mi dispiace E anche l'ultima caccia che dovevo fare adesso è fatta Buffo di jaguaro meteorite che non sono gli oggetti che mi servono quindi Quindi sono sicuro che ci saranno altre cacce Interessante questa cosa Grazie a tutti 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 Grazie a tutti